ciao tutti possiamo fare errori io consiglio per ogni errore che individuiamo consapevolmente trasformare l'errore in esperienza conosceteva ma c'è sbagliare e poi c'è la paura di sbagliare chi fa più danni lo sbaglio o la paura di sbagliare la paura di sbagliare perché la paura è veleno veleno nel campo dello sport per molti anni hanno calcolato che ci vuole una preparazione fisica da qualche anno hanno capito la preparazione anche mentale mentale per cui c'è il direttore sportivo poi quello chiamato l'allenatore il preparatore che deve fare anche la preparazione mentale perché prendiamo il salto in alto hai tre prove alla prima busti giù l'asticella la chiamano alla seconda butti giù l'asticella come sta la mente alla terza prova è quella mentale ci vuole la preparazione mentale quindi la paura di sbagliare quindi sbagliare la prima volta metti da pa sbaglia la seconda metti da pa fai la terza come facevi la prima attenzione concentrazione ma tutto per saltare in alto ma qui la cosa importante non è saltare in alto che può essere piacevole per qualcuno è come vivere in modo consapevole evitando dolore e sofferenza perché li che dicono la vita è bella ma la vita è bella a che età lo vuoi dire è uno da giovane si mette a cantare la vita è bella sì ma perché non me lo dici a 90 anni quando non ti ricordi più neanche le parole della canzone sembra il buddismo dicono che siddhartha gautama chiamato buddha il risvegliato ha detto la vita è dolore no secondo me non è la veloce è stato un errore traduzione l'incarnazione dolore per la vita eterna noi siamo spiriti eterni quindi le quattro nobili verità la vita dolore l'incarnazione e che spesso la parola vita si usa sia per vita eterna che per incarnazione anch'io ho scritto un libro la prossima vita faccio vedere la copertina nuova perché ho fatto un aggiornamento se volete ma la paura di sbagliare perché c'è un giudice che è un fantasma creato dall'infanzia dove il bambino la bambina vengono rimproverati ogni volta che sbagliano e quindi creano un fantasma che io chiamo il critico interiore il giudice interiore che continua a giudicare si ce l'hai fatta stavola ma la prossima prima o poi va male quindi crea stress io ho incontrato persone che hanno realizzato dei loro desideri dei cantanti che hanno venduto tanti dischi sportivi che hanno fatto dei record persone che sono laureate col massimo dei voti ma avevano ancora paura persone che prima di andare su un palco avevano ancora paura loro dovevano bere un po di whisky però andavano sul palco loro dovevano bere un po di whisky da una botta oppure un po di qualche stimolante perché paura di sbagliare paura di sbagliare adesso non parlano più di errore umano quando cadono gli aerei ma sapete perché perché sennò la compagnia deve pagare se un aero con 200 persone cade e si scopre che l'errore è umano deve pagare mi sono letto attentamente una relazione su un aereo caduto dalla malaysian airlines compagnia della malaysia ci sono tutta una serie di prove che dicono che è stato un errore umano una volta voletto anni fa di un altro ruolo di un'altra compagnia che si capiva che il pilota si è suicidato ma si è portato dietro 200 persone che non volevano suicidarsi non si parla di errore umano perché sennò la compagnia deve pagare no ma anche lì perché uno va a suicidarsi mentre guida un aereo o perché è ubriaco o pieno di droghe pare che molti di questi piloti usino droghe alcol in quantità perché hanno paura ma paura di tutto la paura se andiamo a vedere domina paura di sbagliare e se la vita viene vista come fallimento paura di vivere allora possiamo sbagliare ma abbiamo il potere di trasformare gli errori in esperienze conoscite quindi togliti dalla mente il giudice interiore il critico interiore e dai energia allo scienziato interiore che è quello che vuol capire la dinamica la sequenza dell'errore per trasformare quell'esperienza in un'esperienza conoscitiva è possibile puoi farcela possiamo farcela tutte le persone che fanno questo tipo di analisi e questo tipo di trasformazione dell'errore in esperienza conoscitiva vivono meglio vivono in pace hanno il vero successo che è vivere in pace il vero successo non è quello che fai ma se mentre lo fai sei in pace con te stesso quindi buona pace grazie grazie